domenica 11 agosto a tutte le persone su youtube e a tutte le persone che stanno dormendo in questo momento allora raga in questo video vi auguro buona domenica e dico andate al mare divertitevi bevete molto e se sudate lavatevi perché il grande caldo è qui il grande caldo è qui il grande caldo sta colpendo tutta l'italia con punte di 40 gradi e io dico bevete molto non bevete non bevete schifezze per esempio fanta coca cola io non le bevo da parecchio perché fanno schife e fanno male allo stomaco e dico bevete ghetto rate bevete acqua molta acqua mangiate pochissimo e divertitevi iscrivetevi a questo canale e attivate la campanella allora in questo video mangiare sano bisogna non bisogna mangiare schifezze per esempio io non mi mangio più come facevo tanti anni fa pollo con le patatine fritte non più adesso mi mangio solo pasta al sugo e carne carne con insalata perché l'insalata fa bene allora le persone che non le persone che non mi piacciono le insalate il pomo i pomodori vedete che l'insalata e i pomodori fanno bene sono buoni e noi dovremmo mangiare tanta frutta e tanta verdura poi il dolce il dolce della domenica che non può mancare il dolce della domenica per attenzione a non esagerare con più di due dolci voi potete pure dividerlo a metà lo date uno a qualcuno della vostra famiglia e un altro a qualcun altro questi sono i miei consigli per passare una bella domenica poi riposatevi e oggi pomeriggio forse farò un video non lo so però assicuratevi divertitemi e niente iscrivetevi al canale e attivate la campanella forza Napoli e dopo commenterò la partita Napoli Barcellona 4 a 0 per il Barcellona che per me è stata un'umiliazione pazzesca perché noi non abbiamo giustificazioni non abbiamo giocato bene punto e basta buona domenica 11 agosto